ciao a tutti ragazzi ben ritornati sul canale oggi ho deciso di ricreare un olio preziosissimo anticellulite che è quello di slim cup al pepe rosa e retinolo è davvero fantastico grazie a quest'olio al massaggio anticellulite ho perso circa 4 centimetri questi sono gli ingredienti vi basta comprare due di questi ingredienti fondamentali anticellulite e ve ne potrete fare per tutta l'estate è un olio veramente ottimo fa anche tanto per le smagliature però principalmente è anticellulite quindi proprio come nell'originale vado a mettere una piccola percentuale di estere in questo caso utilizzo il veggie seal che imita i siliconi quindi rende la pelle molto morbida e uniforme dopodiché aggiungo dell'olio di girasole misto ad oleolito di ipocastano e arnica che avevo però va bene anche soltanto olio di semi di girasole proprio come l'originale però se avete un olio di anticellulite è meglio poi utilizzo l'estratto di pepe rosa proprio quello che c'era all'interno del prodotto originale che è fortemente lipolitico come potete leggere anche dall'etichetta è proprio un forte anticellulite fa un odore stupendo è praticamente così concentrato che come se fosse un olio essenziale quindi è completamente liposolubile si scioglie benissimo logicamente un prodotto che dovete tenere in un luogo fresco e buio perché sono ingredienti che si possono rovinare facilmente andate a pesare il vostro estratto di pepe rosa e poi andate ad aggiungere il resto degli ingredienti se non ce l'avete potete ometterlo e utilizzare la parte dell'olio di semi di girasole soltanto con un oleolito anticellulite quindi comunque dovete avere almeno un ingrediente anticellulite altrimenti non è un olio anticellulite è soltanto un semplice olio profumato da massaggio invece noi vogliamo che abbia un effetto lipolitico ad azione lipolitica poi vado ad aggiungere la vitamina A cioè il retinil palmitato proprio come nell'olio originale questo è un ingrediente potentissimo è un ingrediente pregiatissimo si utilizza anche all'interno dei prodotti anti rughe perché è fortemente anti rughe quindi lo utilizzeremo anche per un oleomassaggio per il viso chi lo sa comunque potete già farlo da sole è molto semplice e ne inseriamo lo 0,5 per cento che diciamo che è una via di mezzo delle dosi indicate non c'è bisogno di metterne tantissimo e con questa percentuale davvero vi potete fare olio anticellulite per tutta l'estate anche una bellissima idea regalo mescolate con cura e mi raccomando utilizzate quest'olio per fare un massaggio che sia molto energico perché è proprio l'energia del massaggio che fa penetrare gli attivi e poi andiamo inserire non soltanto per profumare ma anche per avere un'ulteriore azione anticellulite gli oli essenziali di menta e di pompelmo se non ce l'avete potete ometterli se non le avete entrambi potete metterne anche uno solo oppure potete sostituirli con l'olio essenziale di finocchio che è molto anticellulite è un odore anche molto forte l'avevamo utilizzato in passato nello scrub anticellulite io comunque vi invito a guardare la playlist prodotti anticellulite e recensioni su prodotti anticellulite così imparate anche a fare il massaggio con la coppetta o comunque con il massaggiatore a fare una routine anticellulite è davvero importante imparare ad utilizzare questi prodotti io spero che il video vi sia piaciuto spero che lo facciate fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao